Nonostante in Abruzzo non ci siano stati fino adesso episodi di grave violenza eneggianti la Gihad, la questora di Teramo, la Digos, non sottovalutano qualunque possibilità. No, no, assolutamente. L'operazione è conclusa lo scorso 15 settembre e conferma proprio questo. Noi circa otto mesi fa abbiamo avviato un'attività investigativa a seguito della segnalazione della presenza sul nostro territorio di un cittadino straniero sul cui profilo Facebook erano presenti foto, immagini eneggianti al Gihad. Cosa che effettivamente gli accertamenti hanno subito dimostrato in quanto sul profilo Facebook di questa persona esistevano numerosissime immagini di eneggianti al Gihad, all'ISIS, ad altre organizzazioni terroristiche, nonché foto tra l'altro di numerose armi. L'attività di indagine ci ha consentito di identificare la persona che si celava dietro il nickname di Facebook e di avviare quindi una mirata attività di indagine nei suoi confronti, grazie alla quale abbiamo appurato che il soggetto non aveva intenzioni concrete al momento di compiere atti violenti né collegamenti con organizzazioni terroristiche. Tuttavia, postando quelle immagini molto evidenti, molto eclatanti, aveva chiaramente manifestato la sua adesione al terrorismo islamico. E il proselitismo che volete combattere in modo particolare in questo caso? Beh, certo, assolutamente. Insomma, la diffusione di idee incitanti alla violenza e al proselitismo appunto dell'estremismo religioso.